Ciao, sono Alessia Ramosino. Yalla è l'inno alla lotta contro la violenza sulle donne. Il flash mob 100 donne vestite di rosso è la testimonianza della solidarietà femminile e abbiamo il proposito di diffondere la cultura del rispetto. Grazie a tutti. 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 Il nostro messaggio dal palco del Teatro Aristone. Chiamiamo per la consegna della targa il vice sindaco di Sanremo Costanza Pireri che è qua con noi questa sera e che coinvolgiamo in questo momento di premiazione. e chiamiamo Alessia Ramosino che ha cantato Yalla Brano contro la violenza di genere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Brano contro la violenza di Brano contro la violenza di genere.